Buonasera amici di Nova News 24.Shai la gatta nel corso della terza puntata del Grande Fratello è stata protagonista di un lungo blocco dedicato all'amore. L'ex velina di Striscia la notizia è stata messa davanti ai suoi momenti di gioco con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, entrambi un po' cotti di lei. A me piace provocare il contatto fisico, sono una donna libera, ha detto orgogliosa lei. Quando però è stato chiesto un parere a Beatrice Luzzi, l'opinionista ha detto una frase che non ho ben capito. La donna è libera sì, ha esordito, ma in una situazione di quel genere la sua libertà finisce dove la sua provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che comunque sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti e va bene essere liberi, ma un po' di rispetto e di pudore in più non guasterebbe. Durante la diretta Shiai la gatta, preoccupata del messaggio che sarebbe potuto passare, ha specificato di non essere una poco di buono e che, sono single dopo tanti anni, sono libera. Una volta andati in pubblicità, poi, si è sfogata con Elena Prestes, da donna dico, tu sei una donna, che commento è porti poco rispetto. Non lo trovo un commento da donna. Amici e amiche, insomma sembrerebbe proprio che Beatrice Luzzi abbia colpito nel segno, stizzendo fortemente Shiai la. Sicuramente non sarà finita qui. Se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24. Sì. 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 Sì.